22.000 metri quadrati di ampi aiuole a Prato, vialetti, aree eventi, giochi per bambini ed una pista di pattinaggio. Riapre dopo mesi di chiusura al pubblico il Parco De Simone a Ponticelli. Dopo i lavori di riqualificazione realizzati dalla Napoli Servizi che hanno consentito la riapertura, la risistemazione del verde e la messa in sicurezza dell'intera area, così come era già avvenuto anche per l'altro parco di Ponticelli, il Parco De Filippo. I parchi pubblici sono strutture di proprietà della collettività e pertanto l'appello che rivolgo è di non vandalizzarlo così come è stato fatto fino ad oggi. Qui è stato vandalizzato tutto, dal parco giochi all'impianto di pubblica illuminazione all'impianto di irrigazione. Allora mantenere questo parco aperto dipende certamente dalla volontà delle istituzioni, ma soprattutto dal coinvolgimento e dalla volontà dei cittadini di salvaguardare il bene pubblico come bene di loro proprietà. L'aspettativa da parte dei cittadini di Ponticelli era molto alta, visto che il polmone verde del quartiere era chiuso ormai da moltissimo tempo, ma l'amministrazione già pensa anche al prossimo parco da restituire alla città, quello di Pianura. Il prossimo parco sarà Falcone e Borsellino a Pianura e un ripristino di un'area al ridosso del parco Buglione al rione Alto, quindi io credo che noi dobbiamo in questa fase in cui ci sono poche risorse utilizzarle bene e recuperare soprattutto alla fruibilità dei cittadini i parchi esistenti che sono stati realizzati nel posto e remoto con molti, da mio punto di vista, anche con molti errori tecnici di progettazione e che comunque oggi vanno recuperati, vanno riaperti e restituire alla fruizione dei cittadini, soprattutto coinvolgendoli nella gestione di attività, di eventi ricreativi e dove è possibile anche con piccoli interventi di privati per consentirne vigilanza e alcune attività che rendano ancora più vivi i parchi. Ancora uno spazio verde per la città, in questa zona dopo il parco di Filippo che abbiamo aperto dopo tanti anni, adesso il parco di Simone è proprio nel cuore del quartiere, adesso bisogna farlo vivere tanto, in questo c'è bisogno non solo dell'impegno delle istituzioni centrali e quelle di prossimità, ma anche tutte le associazioni, i cittadini, gli operatori, i ragazzi, i giovani, questo è un parco molto bello con tanta flora, alberi belli, quindi insomma ci sono le condizioni per dare degli spazi per la socialità, per la vita, per la cultura, per la musica, per i bambini, per gli anziani, per lo sport, bisogna lavorarci e il nostro l'abbiamo fatto ancora una volta insieme agli operatori del comune e soprattutto di Napoli Servizi che hanno fatto un'altra volta un lavoro importante.